individuale, perché solo con la sicurezza individuale degli operatori si può aumentare l'attività e riuscire a garantire quella percezione della sicurezza che è l'obiettivo poi dell'amministrazione. Io sono un uomo del corpo, io ho andato con la divisa di fatto a parte poca attività che avevo fatto come, dicono, professionista con il territorio di prognostica stradale, perciò sono 37 anni che ne sto la divisa e perciò io credo fortemente dalla polizia locale, siamo al servizio della città e perciò dobbiamo creare qualcosa, tutti assieme sicuramente ce la faremo. Io non mi sono perso a raccontare la mia storia perché tanto comunque il curriculum c'è, tra incogni o non efficienze, varie cose, una delle cose che mi è piaciuta di più e che mi è stata una sorpresa è il premio Pertagini, un premio internazionale che ho ricevuto qualche anno fa a Palazzo Vespiglioni a Roma, che è nell'ambito della sicurezza stradale e dell'impatto sul territorio.